Cresce Biperbanca in Abruzzo con la recente acquisizione di sette filiali dal gruppo Intesa San Paolo, uno sviluppo significativo per una banca che ha 150 anni di storia. Direttore di regionale Abruzzo e Molise di Biperbanca, Giuseppe Marco Litta. Sì, ci rafforziamo decisamente su un territorio dove Biperbanca è già fortemente presente. Le nuove filiali acquisite ci danno maggior peso in cittadine come Giulianova, Albadriatica, nel capoluogo adriatico di Pescara e a Termoli. Devo dire che sono passati 20 giorni dalla definizione dell'operazione straordinaria di acquisizione degli sportelli ex UBI ed il clima che si respira, un clima molto buono. Abbiamo accolto da subito i nuovi colleghi e stiamo trattando con i guanti bianchi la nuova clientela che arriva appunto da da questi sportelli già presenti sul nostro territorio. Oggi siete il terzo gruppo bancario nazionale per numero di sportelli, circa 1900 filiali in una realtà molto grande. Siete vicini al territorio, alle famiglie, alle piccole imprese, come? La nostra organizzazione prevede nelle regioni un presidio importante, qual è una direzione regionale, così come la nostra, che è la direzione regionale per l'Abruzzo e per il Molise. Con l'occasione di questa importante operazione, con l'arrivo di tantissimi nuovi sportelli, sono state create quattro nuove direzioni regionali, tre in Lombardia, a Bergamo, Brescia e a Varese e una nelle Marche ad Ancona. Allora, è proprio questo il segreto del presidio del territorio. La nostra è una banca nazionale, il terzo gruppo bancario nazionale, ma è nello stesso tempo una banca del territorio con le sue direzioni regionali. Siamo ormai ad un anno dalla pandemia, quali iniziative avete messo in atto e continuate a mettere in atto per essere vicini alle famiglie e alle imprese? Sì, è scoccato un anno dal primo lockdown qualche giorno fa. Noi continuiamo in quell'attività, senza mai fermarci, di vicinanza a famiglie e ad imprese. Continuiamo con un'assistenza importante di natura finanziaria, tale da attenuare i disagi di tutti i giorni, quelli che purtroppo la pandemia ci ha portato e che continua a portarci. Lo facciamo con il miglior modo possibile, con la massima attenzione verso la clientela e con uno spirito proprio di vicinanza, con un'abnegazione senza precedenti. Continuiamo su questa strada e speriamo di poter presto vedere la fine del tunnel.